Tutti arrivano in discesa e ovviamente c'è la forza di gravità quindi chi sale è praticamente fottuto Ciao a tutti ragazzi qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 Online E siamo incredibilmente dopo un sacco di tempo ritornati con l'epanto Lasciate un like ragazzi per insomma questo grandissimo ritorno 3, 2, 1 partiamo subito Allora vediamo un po' mamma mia il macello Io fortunatamente sono riuscito ad inserirmi Allora qui abbiamo una specie di mappe insomma trial parkour per l'epanto Vediamo un po' subito di andare qui vai panto ce la puoi fare Ok proprio in estremis vai 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 salta ancora perfetto prendi il checkpoint Ok ce l'abbiamo fatta Allora questo inizio di gara sta andando veramente molto bene Non usavo ragazzi queste auto veramente da tantissimo Non so di preciso da quanto ma veramente da un sacco Qui andiamo indietro perché mi sa che dovremmo prendere un bel po' di rincorsa per saltare Vediamo se è vero andiamo potenza qui c'è un bastardo andiamo vai no non ci credo Per evitare quello che era in mezzo ho sbattuto vabbè ricompariamo vediamo un po' Proviamo a saltare così senza rincorsa e niente non ci arriva devo prendere per forza un po' di rincorsa Il problema è che adesso ci sono gli altri giocatori quindi siamo un po' fottuti Allora andiamo indietro vai 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 che ce la possiamo fare andiamo panto no niente da fare Beh si deve prendere più rincorsa il fatto è che ci sono gli altri giocatori Ora iniziamo ragazzi ad infazzire con questa gara con le panto perché mi ricordo che effettivamente non erano così semplici Allora questo qui ti metti in mezzo niente siamo fottuti non so quanto tempo perderemo Allora io penso che così basti a livello di rincorsa il problema è che non deve esserci nessuno davanti Vai proviamo proviamo ad andare potenza muovetevi muovetevi il salto vai panto Ok qui ci siamo ragazzi incredibile salta ancora arriva il checkpoint non fare scherzi Ok ragazzi per miracolo siamo qui seconda posizione per noi Allora adesso dobbiamo fare questa parte va benissimo piuttosto semplice credo senza senza troppa difficoltà No quel punto uuuh attenzione panto non scherzare quel punto ragazzi era veramente brutto perché insomma potevamo bloccarci praticamente per sempre Però fortunatamente sono riuscito a farcela siamo arrivati anche qui altro checkpoint l'abbiamo preso Allora qui dobbiamo rifare la stessa cosa di prima quindi riprendere un po' di rincorsa Andiamo e vai vai potenza potenza panto scatena la tua velocità vai ok qui ci siamo perfetto Allora nulla alla fine la gara sembra piuttosto semplice non credo ci sia insomma una particolare difficoltà Abbiamo una mega rampa vai 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 potenza 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 poi che facciamo un super salto vai panto vai arriva lì sopra Arriva lì sopra nel checkpoint ci siamo ok ma il primo dove cazzo è? Cioè il primo sta andando veramente fortissimo vai 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 arriva anche lì ok Ah il primo il primo è qui vicino pensavo fosse più lontano vai che forse riusciamo a recuperarlo No non è vero l'ho detto e sono andato giù è che se facciamo tutta la perfezione forse abbiamo una minima possibilità ragazzi di Di recuperarlo di nuovo vai ok checkpoint preso Andiamo che poi sembra quasi più o meno sempre lo stesso percorso però Insomma tipo a piani non so è come se ci fossero tanti piani per le nostre panto Vai vai arriva lì ok no non ci credo siamo al punto di prima no Dobbiamo rifare ragazzi la parte di prima Assurdo Adesso mi dice che sono in prima posizione cioè dobbiamo rifare La parte di prima impossibile Vai proviamoci proviamo a qui a saltare anche se non ce la farò mai Vai panto è ovviamente Vediamo se con la curva ci riesco prendendo un po' di velocità dalla curva vai panto Uh forse ce la possiamo fare Ragazzi qui non ci sono giri ma se non facciamo così Cioè se non trovo una qualche via alternativa siamo siamo fottuti Vai potenza panto grazie della spinta No c'ero quasi incredibile Allora siamo messi in una buona posizione solo che c'è troppa gente adesso quindi Non so non so come dovremo fare vai 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 andiamo 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 che forse abbiamo uno spazio libero Potenza attenzione ok qui ci siamo ragazzi siamo in prima posizione Allora panto non sbagliare adesso perché veramente mi incazzo vai 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 Vaffanculo cioè guardate dove guardate dove si era fermata l'auto No ma qui è super complicato no assolutamente ci vuole un sacco di rincorsa ma ci sono gli altri giocatori è impossibile ragazzi Allora forse abbiamo una minima possibilità vai panto vai panto che ce la puoi fare attenzione Potenza 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 arriva al checkpoint Ok ragazzi ce l'abbiamo fatta finalmente che cazzo è uno mi è arrivato sopra forse quello ha preso la mia scia giustamente Comunque noi siamo in seconda posizione qualcuno è riuscito non so come a farcela ragazzi veramente perché Siamo a nove minuti di gara qualcosa di incredibile Ok non sbagliamo Comunque non ci sono giri quindi forse tra pochissimo dovremmo riuscire a concludere non lo so Allora qui cosa abbiamo l'ultimo salto probabilmente Andiamo vai il salto saltiamo Allora il checkpoint spero non sia in aria ma spero sia in strada ragazzi Vediamo un po' ah ok è lì lo vedo lo vedo lo vedo vai che lo possiamo prendere panto Vai che possiamo prendere il checkpoint Andiamo panto attenzione Ok sono arrivato qui ragazzi vai indietro non fare scherzi Panto ti sei bloccata Cioè guardate dove cazzo si è messa l'auto Dai possiamo farcela Vai 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 potenza potenza Arriva nel checkpoint Ok ce l'abbiamo Beh adesso dobbiamo semplicemente concludere Sicuramente concluderemo in seconda ragazzi perché ormai non credo che ci siano altre rampe Stiamo facendo tutta una serie di percorsi Ok manca l'ultimo checkpoint E il traguardo ragazzi Eccolo qui e andiamo Seconda posizione per noi Qui che cazzo c'è un muro Boh non lo so Comunque abbiamo concluso ragazzi Questa è l'importante perché è veramente una gara super complicata C'è quella parte dove ci sono tutti lì fermi ammassati Che non ti fanno saltare Che non so Qualcuno sicuramente neanche è riuscito a farcela ancora per la prima volta Sicuramente no Comunque sia gara molto bella Adesso ne andremo a fare un'altra Altra gara Questa volta ho preso la panto colore crew Allora spero che questa sia un po' più semplice rispetto alla gara di prima Ma credo proprio di si Siamo a del pero ragazzi Qui avremo anche qualcosa di particolare 3 2 1 E andiamo subito vai In mezzo al palo Ok Primo checkpoint Buggatissimo No l'ho preso Ok perfetto ragazzi No pensavo fosse buggato Perché ci stavo passando in mezzo E non succedeva nulla Comunque sia vai Siamo qui Non si è buggato nulla Allora tra pochissimo ci saranno delle spinte Probabilmente gente che muore Vediamo un po' Quello ha rischiato veramente di morire Stavo per investire Andiamo il salto Vai Super scia Sorpasso epico in volo E checkpoint preso ragazzi Senza nessun problema Anzi stavo quasi Addirittura per superare tutto Allora l'altro è qui sopra Va bene Tutto molto Molto semplice Il percorso Andiamo vai Mezzo loop E prendiamo il checkpoint Perfetto Veramente bellissimo Volare con Lepanto Cerchiamo di prendere un po' Di scia da questo qui Che cazzo Una spirale Attenzione ragazzi Spirale con Lepanto Vai Ce la possiamo fare Andiamo Panto Ho anche preso un po' Di scia Il sorpasso epico Ragazzi Sorpasso epico Nella spirale Questa è una cosa Fottuta No sono esploso però Ma che cazzo è Quello è volato Quello è volato giù Con la mia esplosione Ragazzi Spirale epica Con il sorpasso Vai Panto Andiamo Ok Allora adesso dobbiamo scendere Sì perfetto Vai 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 Potenza potenza Andiamo Andiamo Panto Scatena la tua energia Saltiamo adesso qui sopra C'è l'altro checkpoint Vai che ce la puoi fare Ok ragazzi Mamma mia Mamma mia Questa Panto scherza Veramente In un modo incredibile Allora vediamo se posso Prendere un po' di scia Da questo qui Vai perfetto Superiamoli in volo Guardate qui che spettacolo Lui va a mare No ce la dovrebbe fare anche lui Sì infatti Lui ce l'ha fatta Prendiamo il checkpoint E continuiamo in seconda posizione Vai ancora la scia di questo qui Alla fine siamo soltanto noi primi Siamo già al secondo giro Vai prendiamo un po' di scia Un po' di scia E qui è importante No però Lo faccio andare ragazzi Prima lo faccio andare Così prendo la scia La scia all'ultimo E riusciamo ad arrivare al checkpoint Senza problemi Vai 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 Andiamo 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 il salto Il salto Arriva il checkpoint Perché ce la possiamo fare Perfetto Dobbiamo utilizzare Proprio le strategie al massimo Checkpoint preso Continuiamo Quello dove cazzo è Quello è volato giù ragazzi Allora forse c'è una minima possibilità Di arrivare in prima posizione Ma veramente minima Checkpoint preso Con il backflip Cazzo sono andato giù Dai ricompariamo Siamo ancora in prima posizione ragazzi Incredibile Dove cazzo è il secondo Non lo so ma qui C'è soltanto la spirale Dopodiché qualcos'altro E dovremmo concludere Vai vai potenza Potenza No perché non ce la fai Panto Ci riproviamo Ragazzi ho poca velocità Purtroppo Vai 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 Arriva il checkpoint In qualche modo Ok ce l'ho fatto Incredibile Non so perché La mia Panto Non voleva saperne Andiamo Ok quest'altro l'abbiamo preso Manca l'ultimissima parte Vai giù Perfetto Dai dai che ce la possiamo fare Ragazzi Diciamo che in prima posizione Come al solito Siamo svantaggiati Però abbiamo la possibilità Ragazzi di farcela Forse vai Panto No niente da fare Niente da fare Siamo in prima E siamo fottuti Qui ci sono altri due giocatori Mi conviene Mi conviene stare dietro di loro E magari prendere un po' di scia Vai vai giù Perfetto Andiamo Prendi un po' di scia Da questo qui Vai potenza 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 Andiamo Super scia Epico sorpasso In volo E ci siamo ragazzi Cos'è Un altro No Quello era il primo Incredibile Quello era il secondo Cioè questi qui Sono tutti i primi Andiamo 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 Dai 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 Che ce la possiamo fare Arriva al checkpoint Panto Panto arriva al checkpoint Non fermiamoci Oh merda Qui chi è dietro Praticamente vince Perché c'è la fottutissima scia Siamo ripassati in prima posizione Ma Adesso mi risupereranno Senza Nessun problema Andiamo Checkpoint preso Attenzione Non sbandare Ok Questo qui ce l'abbiamo Andiamo 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 Potenza Potenza Ragazzi Manca veramente pochissimo Alla fine C'è qualcuno dietro Forse Vediamo un po' Potevo già concludere Da un bel po' Solo che Essendo primi Siamo fottuti E di conseguenza Dovevamo prendere La scia degli altri Per fare Determinate ramp Comunque Si è una gara Veramente bellissima Adesso ne andremo A fare un'altra Rieccoci qui Altro colore Ancora Questa volta Ho preso il giallo Allora qui come vedete Abbiamo un tunnel Ragazzi Per l'epanto Qualcosa di Veramente assurdo 3 2 1 Partiamo con il turbo Ok sono rimasto lì Vai 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 Stavo così ragazzi Per andare giù Abbiamo soltanto un giro Inseriamoci Inseriamoci In questo tubo Mortale Forse non lo so Direi di ricomparire Si assolutamente Siamo Siamo in troppi Per queste gare Per questi Spazi così stretti Dai andate avanti Muovetevi Muovetevi Vai inseriamoci Inseriamoci Vediamo un po' Mamma mia ragazzi Qui l'auto non tiene Andiamo in retromarcia Vediamo se ce la faccio Si In retromarcia possiamo andare Che cazzo Arrivava uno in discesa Ma io non vorrei Cioè da ciò che ho visto Nel social club Forse ragazzi Questa è un'unica via Per l'andata e il ritorno Vai 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 che ci siamo Vai che ci siamo Potenza Potenza Forse tra pochissimo Arriverà qualcuno Infatti ragazzi Mamma mia Andiamo da questa parte Vai supera tutto Ok ok Ce l'ho fatta Si praticamente Gli altri scendono giù Quindi forse adesso avremo Qualche altro checkpoint Da riprendere Infatti ragazzi Il checkpoint adesso è lì sotto Va bene scendiamo Scendere è molto più facile Perché alla fine Cioè colpisci gli altri In qualche modo ci arrivi Andiamo facciamo Questa specie di loop Specie di loop Vai Abbiamo spinto tutti Mamma mia Dai che ci possa arrivare Il checkpoint Andiamo un po' Andiamo indietro Guardate qui come spingono Proprio In maniera incredibile Andiamo panto Andiamo panto Non cadere giù Non cadere giù Non cadere giù Vai 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 Devo arrivare al checkpoint Al checkpoint Al checkpoint Eccolo qui ragazzi Prendiamolo Perfetto vai Ed adesso dobbiamo ovviamente Risalire Niente una gara Una gara assurda Fortunatamente c'era Soltanto un giro Vai siamo tutti in salita Ok Allora manca l'ultimo E dopodiché il traguardo Ragazzi muoviamoci Allora se dovesse concludere un altro Purtroppo non potremo Non potremo più concludere Comunque ci sarà il tempo Vai qui Ok checkpoint preso ragazzi Dobbiamo farcela Manca soltanto il traguardo Tra pochissimo Concluderà anche il settimo E saremo veramente fregati Dai 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 Scendete 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 tutti Superiamoli Da questa parte Andiamo attenzione Super strategia Vai dobbiamo andare indietro Cazzo Togliti dalle palle tu Ragazzi il settimo ha concluso E questo non si toglie dalle palle Non assurdo Dai 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 Perché ce la possiamo fare Perché ce la possiamo fare Attenzione Qui quello mi ha spinto Non ci credo 20 secondi No ragazzi Quello mi ha spinto Quello mi ha spinto A un passo dalla fine Pochi secondi per noi Dai 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 Pochissimi secondi Pochissimi secondi Vai che ce la possiamo fare Andiamo concludi Ok ragazzi Ce l'ho fatta Mamma mia 6 secondi 5 secondi alla fine Ce l'abbiamo fatta Quel bastardo mi aveva spinto Alla fine però Alla fine ce l'abbiamo fatta Mamma mia Incredibile No vabbè Gare assurde Fortunatamente c'era soltanto in giro Perché Altrimenti non si poteva Assolutamente fare Questa gara qui Che dire abbiamo giocato Tre gare bellissime Con Lepanto Siamo ritornati Con questa auto qui Io spero che il video vi sia piaciuto Qui da extra lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Grazie a tutti.